Delusi da un sistema fiscale corrotto e inefficiente, un gruppo di risparmiatori ha deciso di gestire i propri soldi in maniera autonoma. Quel gruppo è cresciuto e ti mostrerà come farlo in diretta su YouTube. Unisciti al nostro grido, i miei soldi li gestisco io. Signore e signori, benvenuti e ben ritrovati all'interno della nostra nuova Trading Room. Oggi, mercoledì 11 maggio, come promesso lunedì, insieme a noi il nostro top trader Matteo Anelli. Ciao Matteo, buonasera. Buonasera Samuele, ben ritrovati a tutti quanti. Allora, questa sera Matteo ci introdurrà un discorso già ripreso anche da lui in precedenza per quanto riguarda il rialzo dei tassi. Prenderemo come al solito quando si parla di materie prime il nostro Alfa 4 Charts e Matteo ci andrà a fare una breve introduzione su quelli che sono degli andamenti opposti fra alcune materie prime che ci avete chiesto anche di approfondire all'interno del nostro canale YouTube, parleremo della situazione delle granaglie e vedremo anche la costruzione di una nuova operazione da mettere a mercato. Passiamo subito all'operativo Matteo. Eccoci, esattamente come hai detto, riprendiamo un po' quello che avevamo già citato nelle precedenti live, non solo da me ma anche dagli altri colleghi, ovvero il tanto atteso rialzo dei tassi da parte della Fed che è in effetti avvenuto di 0,5 punti base, un po' come si si aspettava nelle ultime settimane ma un rialzo sicuramente più sostanzioso rispetto a quello che la Fed stessa aveva preventivato all'inizio dell'anno. Questo perché combattere l'inflazione è diventata la priorità numero uno dell'amministrazione Biden ed è in effetti un po' il problema economico maggiore che tutti stiamo vivendo diciamo nel mondo chiamiamolo più occidentale ma non solo, è sicuramente una problematica globale. Considerate che forse nelle letture di questi giorni avremo il primo ribasso nell'inflazione da sette mesi a questa parte, parliamo di un passaggio da un otto e mezzo per cento a un otto punto uno probabilmente, quindi cambiamenti leggeri ma questo denota come un'inflazione del genere non si aveva dal 1981 quindi dobbiamo addirittura tornare indietro di 40 anni per vedere qualcosa di simile. Il primo effetto l'abbiamo visto subito sul dollaro e lo vediamo qua con il grafico appunto dell'euro dollaro che è sceso molto proprio perché il dollaro americano ha preso forza nei confronti dell'euro ma comunque di tutte le principali valute maggiormente nell'euro rispetto ad altre perché la BCE è sicuramente più in difficoltà nella gestione della propria politica monetaria quindi il rialzo dei tassi probabilmente non avverrà nemmeno nel 2022 ma staremo a vedere anche questa situazione. Oltre a un effetto sul dollaro c'è stato anche una discesa sui mercati azionari, vediamo ad esempio il Nasdaq in questo momento, non solo per un rialzo in sé dei tassi ma perché il Treasury Bond a dieci anni americano adesso ha un rendimento del 3%, pertanto c'è stata anche molto una fuoriuscita di capitali dall'azionario all'obbligazionario appunto. Pensate anche fondi, banche ma anche operatori come possiamo essere noi piuttosto che stare in un mercato ribassista e molto incerto come quello azionario preferiscono depositare i loro soldi in diciamo un rendimento di fatto sicuro perché si parla di titoli di Stato americani. Continuando, di solito che cosa succede? Quando il dollaro si rafforza mette una forte pressione ribassista sulle materie prime perché il loro andamento è per così dire inverso, c'è una correlazione inversa in quanto più il dollaro prende forza più ha un paese esterno. Come possiamo essere noi che ad esempio vogliamo importare il gas americano? Chiaramente ci costa di più e quindi scende di fatto la domanda per le importazioni da paesi esteri. Il punto però qual è? Che non è che sta avvenendo su tutti i comparti, anzi molti comparti merceologici rimangono assolutamente orientati al rialzo e di fatto già da i mesi scorsi registriamo una correlazione diretta tra dollaro e materie prime. Questo perché nonostante il dollaro stia in effetti prendendo forza, la grave mancanza di offerta in molte materie prime fa sì che queste rimangono comunque al rialzo. Vediamo il petrolio, in questo caso che sì, ha avuto un po' un andamento altalenante ma la tendenza è assolutamente rialzista e altalenante dovuto molto anche ai discorsi legati alla guerra russa-ucraina. Non solo, questo tema purtroppo del conflitto è un ulteriore come dire aiuto ai prezzi alti del petrolio che causano una fortissima inflazione perché più costa il petrolio più costa tutto perché aumentano i costi di trasporto di qualsiasi tipo di merce. Vediamo ora il gas, un po' la stessa cosa, forse questo ancora più orientato al rialzo negli ultimi mesi e anche il gas fa parte di molti cicli produttivi anche nel nostro paese e ad esempio anche per i fertilizzanti di cui abbiamo parlato molto nel passato che quindi esercitano di conseguenza un'ulteriore pressione inflazionistica anche sulle granaglie. Veniamo ora all'etting oil che è una materia prima diciamo correlata al petrolio perché è un suo derivato sta anche sovra performando il petrolio stesso perché viene utilizzato come carburante per gli aerei ma non è tanto questo il motivo viene utilizzato molto anche come riscaldamento ed essendoci un gas sempre più caro è ovvio che anche beni alternativi ai riscaldamenti crescono di prezzo e quindi è diciamo il derivato del petrolio che sta facendo meglio in questo momento. L'ho citato perché a breve torneremo a parlare anche di uno spread che abbiamo visto con Lorenzo nelle settimane scorse. Passiamo ora alle granaglie vediamo la soia con ZS sì è scesa un po' negli ultimi giorni probabilmente un po' uno storno fisiologico da prezzi alti probabilmente anche un po' di pressione del dollaro c'è stata però tutta questa tendenza ribassista non possiamo di certo dire che è presente sul mais vediamo un po' la stessa cosa e sul grano invece c'è un andamento un po' diverso ma negli ultimi giorni è stato quello più forte dovuto a un forte rallentamento nella partenza dei raccolti che solitamente sono un po' in anticipo rispetto al al mais e la soia in effetti il grano si raccoglie anche di fatto prima la fine del raccolto avviene ancora nel periodo estivo mentre mais e soia più verso l'inizio dell'autunno per così dire poi questi dettagli possono cambiare molto da regione a regione area di produzione e via dicendo il grano sta appunto avendo dei ritardi nella partenza del raccolto causa siccità un clima non particolarmente vantaggioso e quindi sta mantenendo sempre al rialzo le quotazioni oltre al fatto che è la materia prima più legata più legata al discorso ucraina russia perché entrambi sono dei paesi fortemente produttori ora prima di passare alla operazione che vogliamo mettere in campo facciamo una piccola parentesi per vedere il cacao ad esempio che nonostante sia una diciamo materia prima alimentare sta invece avendo un andamento sicuramente più ribassista a sottolineare che attenzione non tutte le materie prime si stanno comportando in ugual misura e maniera in questo caso l'offerta che è la maggior parte per produzione africana è presente più magari delle granaglie oltre a questo il cacao non è una diciamo materia prima di prima necessità nel senso che se uno non mangia il cioccolato vive lo stesso a differenza del grano mais e soia sono delle materie prime assolutamente legate all'alimentazione umana e animale quindi c'è anche una esigenza chiaramente differente vediamo anche il rame con hg che sta avendo anche lui un andamento ribassista sicuramente un po in controtendenza rispetto alle materie prime che abbiamo visto prima questo dovuto al fatto che ci sono delle minacce verso una rallentamento economico fino ad arrivare ad una recessione siamo in possibile presenza di un qualcosa che forse non si vedeva dai primi anni settanta ovvero la cosiddetta stagaflazione ovvero siamo in un momento in cui c'è un rialzo generale dei prezzi delle merci quindi c'è inflazione ma si rischia anche una conseguente decrescita economica anche in quegli anni è stato probabilmente causato da uno shock nei prezzi del petrolio per delle crisi medio oriente quindi la storia è chiaramente diversa ma non troppo il rame rappresenta proprio una materia prima di benessere economico e quindi nel momento in cui ci sono dubbi sulle crescite future è quella che ne risente di più perché la domanda e gli investimenti per infrastrutture costruzioni eccetera eccetera diminuiscono quindi ancora una volta un esempio sul rame come sul cacao per sottolineare che sì le materie prime sono ancora orientate al rialzo nonostante l'aumento dei tassi il rafforzamento del dollaro ma bene o male non possiamo considerarle tutte un'erba dello stesso fascio ora passando appunto sugli spread andiamo un attimo a vedere esatto il grano vi ho parlato che potrebbe esserci ancora una storia rialzista nonostante i prezzi siano già molto alti dovuti appunto a quei ritardi nei raccolti e a un'offerta comunque già molto bassa si potrebbe quindi andare long al rialzo secchi sul grano si potrebbe comprare uno spread a due gambe ma visto che comunque c'è alta volatilità e quindi alto rischio questa potrebbe essere un'alternativa interessante come possiamo vedere si è anche formata una leggera divergenza tecnica c'è l'inizio di una stagionalità rialzista che anche negli ultimi anni si è comportata bene quel fortissimo rialzo e ribasso che vedete a febbraio è dovuto proprio diciamo al periodo del conflitto russo-ucraina a testimoniare che dei forti shock rialzisti potrebbero aiutare questo spread pertanto nel trading club che diciamo trasmettiamo in maniera privata tutte le settimane ci siamo già mossi su su questo spread e lo possiamo fare eccolo qua che se lo fa vedere samuele nella mia registrazione e lo possiamo fare anche qui sulla piattaforma di queste di queste live anche se i prezzi non cresceranno subito man mano potrebbero dare delle soddisfazioni andiamo pure a trasmettere un acquisto ok andiamo a mercato sì 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 andiamo pure a mercato ecco ti fermo un attimo vediamo che il margine iniziale è ben di duemila dollari ora purtroppo una cosa che vi devo segnalare la piattaforma non è sempre perfetta nel rappresentare secondo me il margine degli spread soprattutto se parliamo di butterfly di condor cioè quello che voglio dire che a volte il rischio che ci fa ci suggerisce il margine è un po eccessivo rispetto all'effettivo rischio che abbiamo sullo spread e a breve ve lo vado a dimostrare quindi trasmettiamo senza problemi ok adesso avremo l'eseguito sui butterfly può essere sempre un pochettino più lento se non ve lo esegue a mercato il consiglio è di provare a cambiare mettere un limit di solito lo esegue sempre se vuoi siamo ci possiamo spostare un attimo ancora su alfa for chart arrivo subito sì eccomi qua perfetto ecco bravissimo prova a fare qui ai ai minimi parliamo di un cinquecento seicento dollari esattamente a testimoniare che il rischio c'è quei prezzi possono essere rivisti può andare anche più in basso però probabilmente un peso di duemila dollari è forse un po eccessivo rispetto alla volatilità e l'impatto economico che sta avendo poi in ogni caso è giusto che ognuno di noi valuti il rischio in base al proprio capitale in base alla propria propensione al tempo che ha a disposizione e a tutte le caratteristiche personali il trading è qualcosa di soggettivo e quindi bisogna un po comportarsi in questa direzione scusami proprio in merito anche a questa diciamo tua parentesi a livello di margine ho che è uno spread che pesa molto ma molto di più rispetto a zv piccola curiosità andiamo a controllare l'impatto sul margine che sicuramente sarà inferiore a quello di zv infatti margine a 1113 dollari contro i duemila che abbiamo visto su zv nonostante abbia un rischio molto molto superiore bravo hai fatto molto bene a sottolineare questa cosa perché ho in effetti è più volatile proviamo a tracciare anche il profit e loss come hai fatto prima anche su ho e ci renderemo conto un po di questa differenza ecco assolutamente sì fai una cosa indicativa da da minimo no tranquillo quando lo fai no e quando lo fai sulla stessa linea lo visualizza male sì ti conviene fare un ref ecco bravissimo ok allora partiamo da qua e lo mettiamo qua con un movimento molto molto inferiore esatto esatto mi hai rubato le parole di bocca un due giorni di movimento e tutto il movimento che vediamo negli ultimi mesi sulla zv e quindi ci rendiamo bene conto che qua il margine più basso ma il rischio è nettamente superiore quindi questo esercizio che ha fatto samuele di andare qui su alfa forciarte tracciare un po il profit e loss fatelo sempre perché vi dà subito un occhio di come è l'impatto su le varie strategie a proposito di questo spread vediamo che se appena formata una divergenza con la rsi potrebbe essere di buon auspicio per uno storno nei giorni successivi al di là di questo come ha sottolineato samuele attenzione perché questo uno spread altamente speculativo e rischioso anche in virtù di tutto quello che ho detto prima cioè letting oil per più ragioni sia legata al petrolio sia legata al rialzo dei prezzi del gas è una delle materie prime che sta facendo meglio quindi il fatto di andare short è un po il fatto di andare contro trend e l'obiettivo non è tanto che questo spread da ritorni ora a zero e quindi in contango dalla accordation che abbiamo ma anche prendere uno storno basta e avanza per divertirsi in termini di profitti quindi questo è l'obiettivo ma se incomincio a sfuggire al rialzo io non lo lascerei andare ma realizzerei una stop loss senza tanto pensarci tenendo il rischio piuttosto contenuto è ovvio che questa è una posizione che secondo me possono permettersi di farla solo chi ha un capitale medio alto un certo tipo di esperienza e quindi ecco sa gestire certe situazioni ecco questo è un po è un po tutto per la diretta di quest'oggi quindi attenzione che il rialzo dei tassi non è uguale per tutti attenzione che alcune materie prime sono un po più in difficoltà altre un po più al rialzo come sempre muoviamoci in spread meglio con i multi lag per avere una maggiore protezione nel momento in cui volete conoscere effettivamente tutti i dettagli del metodo ma non solo volete essere seguiti giorno dopo giorno il trading club però è sicuramente la via giusta abbiamo realizzato davvero grandi grandi profitti negli anni scorsi ci siamo divertiti ma soprattutto abbiamo passato tante informazioni preziosi a chi ci ha seguito non solo sta tornando anche il vecchio trading club ovvero con live trading condivisione di operazioni in tempo reale e la possibilità di condividere costantemente dubbi perplessità ma anche opportunità come dicevo poco fa pertanto entrate a far parte della squadra anche solo per un mese c'è un prezzo davvero molto molto accessibile così possiamo conquistare la vostra fiducia con fatti concreti e con i risultati ottimo matteo grandissimo intervento abbiamo già feedback positivi in diretta ti ringrazio per essere stato con noi questa sera e invito tutti poi a vedere anche l'episodio registrato di venerdì dove avremo ancora un qualcosa di operativo vi proporremo ancora un qualcosa da mettere a mercato quindi restate sintonizzati con noi una buona serata e un buon trading a tutti grazie ancora matteo ciao a presto ciao a tutti